Dialogo 1 Amici a quattro zampe. In questa conversazione, Sofia e Luca parlano dei loro animali domestici e degli animali che amano. Condividono le loro esperienze e raccontano aneddoti divertenti sui loro amici a quattro zampe. Scopri insieme a loro quanto sono speciali i nostri amici animali. Ciao Luca. Mi piacciono tanto gli animali. Hai un animale domestico? Ciao Sofia. Sì, ho un cane di nome Max. È un labrador molto affettuoso e giocherellone. Mi fa compagnia e mi riempie di allegria. Che carino. Io ho un gatto di nome Micio. È un gatto arancione con un carattere molto indipendente. Gli piace trovare posti accoglienti dove riposarsi. Mi piacciono sia i cani che i gatti. Sono animali così diversi ma altrettanto speciali. Sai, mi è capitato di fare delle passeggiate con Max al parco e incontrare altri cani. Anche a me è capitato. Mi piace portare Micio in giardino. Ma lui preferisce esplorare in autonomia. È divertente osservare i suoi comportamenti da cacciatore. È vero. I gatti sono animali molto indipendenti e curiosi. Mi piace anche osservare gli uccelli che vengono nel mio giardino. Anch'io adoro gli uccelli. Ho un piccolo giardino dove ho messo un alimentatore per uccelli. È così bello vederli volare e cantare. Che bella idea. È una gioia vederli apprezzare l'alimentatore. Mi piace anche osservare gli scoiattoli che saltellano tra gli alberi. Gli scoiattoli sono così vivaci. Mi è capitato di vederne uno mentre raccoglieva le ghiande. Sembrava molto felice con il suo bottino. È davvero un'immagine divertente. Gli animali ci regalano momenti di gioia e spensieratezza. Sai, ho sempre sognato di andare in Africa per vedere gli animali selvatici da vicino. Anche io. Mi piacerebbe fare un safari e ammirare le giraffe, gli elefanti e i leoni nella loro habitat naturale. Sarebbe un'esperienza unica. Sì, sarebbe davvero emozionante. Gli animali selvatici sono così maestosi e affascinanti. Anche i pesci mi intrigano. Ho un piccolo acquario con pesci colorati nella mia casa. Gli acquari sono rilassanti da guardare. Mi piace osservare i pesci che nuotano tra le piante e i coralli. Hanno dei colori così vivaci. Sì, è come avere un pezzetto di oceano in casa. È rilassante e aiuta a creare un'atmosfera tranquilla. Gli animali sono davvero sorprendenti in tutte le loro forme e dimensioni. Concordo pienamente. Dobbiamo apprezzare e prendersi cura di tutti gli animali, domestici e selvatici. Ci arricchiscono la vita e ci insegnano tanto. Hai ragione, Sofia. Gli animali sono veri amici. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 2 Conversazione sulle esperienze memorabili di parapendio. In questa conversazione, due amici di nome Alessandro e Martina condividono le loro esperienze indimenticabili di parapendio. Si scambiano emozioni e racconti avvincenti legati a questa avventura aerea. Ciao Martina. Come stai? Ciao Alessandro. Sto bene. Grazie. E tu? Sto benissimo. Sai, stavo pensando alle esperienze di parapendio. Hai mai provato questa emozionante avventura? Sì. Ho avuto la fortuna di fare parapendio durante le vacanze scorse. È stata un'esperienza mozzafiato. Mi sono sentita libera come un uccello nel cielo. Wow. Deve essere stata incredibile. Anch'io ho avuto un'esperienza simile. Ricordo ancora il momento in cui mi sono lanciato e ho visto il paesaggio spalancarsi davanti a me. È stato indimenticabile. Esattamente. La sensazione di volare sopra le montagne e godere della vista panoramica è qualcosa che rimane impresso nella mente. Ero così entusiasta che volevo che il volo non finisse mai. Capisco perfettamente. Anche per me è stato difficile lasciare quell'esperienza. Mi sentivo completamente immerso nella natura e in armonia con il vento. Mi hai fatto venire in mente un'altra esperienza di parapendio che ho avuto. Era una giornata soleggiata e il cielo era terzo. Quando ho planato sopra il mare, ho potuto ammirare i colori brillanti dell'acqua e sentire la brezza marina sul viso. Deve essere stato emozionante. Immagino che volare in un ambiente marino abbia aggiunto un tocco ancora più speciale all'esperienza complessiva. Hai avuto la sensazione di essere parte del mare e del cielo allo stesso tempo? Esattamente. Era come se tutto si fusesse insieme. Mi sentivo in pace con me stessa e con la natura circostante. Era una connessione unica con l'elemento dell'aria. Che bello! C'è qualcosa che ricordi in particolare di quel volo? Sì. Durante il volo ho avuto la fortuna di vedere un gruppo di delfini che nuotava sotto di me. Era un momento magico. Ho provato un senso di meraviglia e gratitudine per la bellezza della vita. Che esperienza incredibile! Immagino che quella vista abbia reso il tuo volo ancora più speciale e indimenticabile. Il parapendio ci regala davvero opportunità uniche per scoprire la natura in modi sorprendenti. Assolutamente. Ogni esperienza di parapendio è diversa e porta con sé emozioni uniche. È un'esperienza che consiglio a chiunque desideri provare qualcosa di nuovo e avvincente. Sono d'accordo con te al 100%. Il parapendio è un'avventura che ci fa sentire vivi e ci ricorda quanto il mondo sia pieno di meraviglie. Dialogo 3 Citazioni preferite. In questa conversazione, Marco e Sofia discutono delle loro citazioni preferite. Condividono frasi che li ispirano e li motivano nella vita quotidiana, esplorando il significato personale di queste parole. Ciao Sofia, hai una citazione preferita che ti ispira? Ciao Marco. Assolutamente. Una delle mie citazioni preferite è La vita è come una bicicletta. Per mantenere l'equilibrio, devi continuare a pedalare. Che bella citazione. Mi piace come sottolinea l'importanza di continuare ad andare avanti e non arrendersi. Mi fa riflettere sul fatto che dobbiamo perseverare anche nelle difficoltà. Esattamente. Marco. Questa citazione mi ricorda di non fermarmi di fronte alle sfide. Ma di essere costante nel perseguire i miei obiettivi. Hai ragione, Sofia. Le parole possono essere davvero potenti. Una citazione che mi ispira è Che citazione interessante. Marco. Mi piace come sottolinea l'importanza di prendere il controllo delle nostre emozioni e delle esperienze che viviamo. Ci invita a essere protagonisti della nostra vita. Esattamente, Sofia. Le parole di saggi e mentori possono darci una nuova prospettiva sulla vita. C'è un'altra citazione che mi ha sempre colpito. Non aspettare il momento perfetto, prendi il momento e rendilo perfetto. Mi piace molto questa citazione. Spesso rimandiamo le cose aspettando che tutto sia perfetto. Ma dobbiamo ricordarci di cogliere le opportunità quando si presentano e fare il meglio con quello che abbiamo. Esattamente, Sofia. Dobbiamo imparare a vivere nel presente e adattarci alle circostanze. Hai altre citazioni che ti ispirano? Sì. Ce n'è un'altra che mi piace molto. Non smettere mai di sognare. Perché i sogni si possono realizzare. Mi motiva a credere nei miei sogni e a lavorare per realizzarli. Che bellissima citazione. Sognare ci dà la speranza e la motivazione per perseguire ciò che desideriamo. Dobbiamo ricordarci di non smettere mai di sognare. Assolutamente. Marco. I sogni sono la linfa vitale che alimenta la nostra passione e determinazione. Le citazioni possono essere delle vere fonti di ispirazione. Hai ragione, Sofia. È bello come alcune parole possano risuonare in noi e darci la forza di andare avanti. Continuerò a cercare nuove citazioni che possano arricchire la mia vita. Dialogo 4 Una fuga relax. In questa conversazione, Luca e Sara parlano delle loro fughe relax durante il weekend. Condividono le loro destinazioni preferite e discutono delle attività rilassanti che amano fare per rigenerarsi dallo stress quotidiano. Ciao Sara. Hai mai fatto una breve fuga relax nel weekend? Ciao Luca. Sì. Mi piace organizzare dei weekend di relax per staccare un po' dalla routine. E tu? Hai mai provato a fare una cosa del genere? Sì, Sara. Ho avuto l'opportunità di fare alcune fughe relax e mi hanno aiutato a ricaricare le energie. Una delle mie destinazioni preferite è una città termale vicino alle montagne. Mi piace rilassarmi nelle acque calde e godermi la vista panoramica. Sembra fantastico. Luca. Anche io adoro le località termali. Durante i weekend di relax, preferisco invece andare in una località costiera. Mi piace passeggiare sulla spiaggia e godermi il suono delle onde. Capisco, Sara. Le località costiere sono davvero rilassanti. Mi piace anche fare escursioni nei boschi durante i weekend. Respirare l'aria fresca e immergermi nella natura mi ricarica completamente. Sì. Le escursioni sono meravigliose. Mi piace camminare sui sentieri e ammirare il paesaggio circostante. È davvero rigenerante. Quando cerco tranquillità, invece, preferisco trascorrere il mio weekend in una casa vacanze isolata. Che idea piacevole, Sara. Una casa vacanze isolata può offrire pace e tranquillità. È l'occasione perfetta per leggere un buon libro, fare passeggiate solitarie e rilassarsi senza distrazioni. Esattamente. Luca. Adoro avere del tempo per me stessa. Lontano dal trambusto della città. Durante i weekend di relax, mi piace anche dedicarmi alla meditazione e allo yoga. Mi aiuta a rilassare mente e corpo. Sono contento che tu abbia trovato delle attività rilassanti che ti piacciono, Sara. Per me, durante i weekend, è fondamentale dedicare del tempo alla lettura e alla pittura. Mi aiutano a staccare dalla routine e a rilassarmi. La lettura e la pittura sono ottime attività per rilassarsi. Luca. È bello trovare il proprio modo di rilassarsi e prendersi cura di sé durante un weekend. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 5 Progetti di conservazione della natura dei nostri sogni. In questa conversazione, Andrea e Chiara parlano dei loro progetti di conservazione della natura ideali. Condividono le loro passioni per l'ambiente e discutono delle iniziative che vorrebbero realizzare per preservare la bellezza della natura. Ciao Chiara. Hai mai pensato a progetti di conservazione della natura che ti piacerebbe realizzare? Ciao Andrea. Assolutamente. Uno dei miei sogni è quello di creare un'associazione per la tutela delle tartarughe marine. Vorrei sensibilizzare le persone sull'importanza di preservare le loro aree di nidificazione e garantire la sopravvivenza di queste affascinanti creature. Che bella iniziativa. Le tartarughe marine sono specie preziose e vulnerabili. Sogno di realizzare un centro di recupero per animali selvatici feriti, dove possano essere curati e poi rilasciati nella natura. Sì. Gli animali selvatici hanno bisogno di aiuto quando si trovano in difficoltà. Un altro progetto che mi piacerebbe realizzare è la creazione di un'area protetta per la salvaguardia delle foreste pluviali. Voglio preservare la ricchezza di biodiversità che si trova in questi habitat. Sono d'accordo. Le foreste pluviali sono tesori naturali che meritano protezione. Vorrei anche promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili, come l'energia solare e l'eolica, per ridurre l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici. Assolutamente. La transizione verso fonti di energia pulita è fondamentale per un futuro sostenibile. Vorrei anche creare un programma di educazione ambientale nelle scuole. Per insegnare ai giovani l'importanza di prendersi cura della natura. È una fantastica iniziativa. Coinvolgere i giovani è essenziale per creare una coscienza ambientale e promuovere comportamenti sostenibili. Vorrei anche sensibilizzare le persone sull'importanza della conservazione degli ecosistemi marini, promuovendo la riduzione dell'inquinamento delle acque. Sì. Gli oceani sono ricchi di vita e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerli. Vorrei anche promuovere la riduzione dei rifiuti plastici e l'uso di materiali biodegradabili per preservare gli habitat marini. Ottima idea. La lotta contro l'inquinamento plastico è cruciale per la salute degli ecosistemi marini. Dobbiamo anche preservare le zone umide, creando riserve naturali per le specie di uccelli migratori. Assolutamente. Le zone umide svolgono un ruolo chiave nell'ecosistema e nella conservazione degli uccelli migratori. Sogno di creare un centro di ricerca per monitorare e proteggere queste preziose aree. Fantastico. Siamo entrambi motivati a fare la nostra parte per la conservazione della natura. Speriamo che i nostri sogni diventino realtà e che possiamo contribuire a preservare la bellezza della natura per le future generazioni. Dialogo 6 Progetti di architettura dei sogni. In questa conversazione, Luca e Martina parlano dei loro progetti di architettura dei sogni. Discutono delle loro idee e dei dettagli dei progetti che vorrebbero realizzare. Ciao Martina. Ho sempre sognato di progettare un edificio ecologico a impatto zero. Vorrei utilizzare materiali riciclati e integrare sistemi per il risparmio energetico. Ciao Luca. Mi sembra un progetto fantastico. Anch'io sono appassionata dell'architettura sostenibile. Vorrei progettare un complesso residenziale che sfrutti al massimo l'energia solare. Mi piace molto l'idea dell'energia solare. Potremmo includere pannelli solari sul tetto e utilizzare finestre a doppio vetro per massimizzare l'isolamento termico. Esattamente. Inoltre, potremmo progettare ampi spazi verdi all'interno del complesso per favorire la connessione con la natura e promuovere la sostenibilità. Sì. Gli spazi verdi sono essenziali. Potremmo creare giardini pensili, cortili interni e zone verdi pubbliche, per creare un ambiente accogliente e rigenerante. Assolutamente. Vorrei anche utilizzare materiali naturali, come il legno, per conferire calore e confort agli interni delle abitazioni. Concordo. Il legno è un materiale versatile ed ecologico, che può creare un'atmosfera accogliente negli spazi abitativi. Vorrei anche sperimentare con nuove tecniche di costruzione ecosostenibili. Ottima idea. Potremmo utilizzare tecniche di costruzione a basso impatto ambientale, come il recupero delle acque piovane e l'isolamento termico avanzato. Esatto. Dobbiamo pensare a soluzioni innovative, per ridurre l'impatto ambientale delle nostre costruzioni. Hai qualche idea particolare per l'aspetto estetico del complesso residenziale? Mi piacerebbe creare un design moderno ed elegante. Con linee pulite e minimaliste. Vorrei anche integrare opere d'arte e elementi architettonici distintivi per conferire un tocco unico. Fantastico. L'arte può davvero arricchire gli spazi, e rendere l'ambiente più stimolante. Sogno di progettare edifici che ispirino e migliorino la qualità della vita delle persone. Sono d'accordo al 100%. La nostra passione per l'architettura può davvero fare la differenza nel mondo. Grazie per questa stimolante conversazione. Luca. Grazie a te, Martina. È stato un piacere parlare dei nostri progetti di architettura dei sogni. Spero che un giorno possiamo realizzarli e contribuire a creare un futuro sostenibile. Sono sicura che lo faremo. Con impegno e creatività. Possiamo trasformare i nostri sogni in realtà. A presto. Luca. Dialogo 7 Un concerto da sogno. In questa conversazione, Marco e Laura discutono del loro line-up ideale per un concerto da sogno. Condividono i loro artisti preferiti e immaginano una serata indimenticabile piena di musica. Sogna insieme a loro il concerto perfetto. Ciao Laura. Come stai? Sai, stavo pensando a un concerto da sogno. Se potessi creare un line-up ideale, quali artisti includeresti? Ciao Marco. Anche io sogno un concerto indimenticabile. Sicuramente includerei Ed Sheeran. Adoro le sue canzoni e il suo talento nel suonare la chitarra. Concordo. Ed Sheeran è un grande artista. Per me, non può mancare Beyoncé. La sua voce potente e le sue performance straordinarie mi lasciano sempre senza parole. Beyoncé è una scelta fantastica. Un altro artista che vorrei vedere sul palco è Bruno Mars. Il suo carisma e il suo talento nel cantare e ballare renderebbero il concerto ancora più speciale. Sono d'accordo. Bruno Mars è un'esplosione di energia sul palco. Un altro artista che aggiungerei al line-up è Adele. La sua voce emotiva e le sue canzoni toccanti mi commuovono sempre. Adele è un'artista straordinaria. Un altro artista che vorrei vedere è Justin Timberlake. La sua presenza carismatica e le sue performance coinvolgenti mi fanno ballare e cantare ogni volta. Justin Timberlake è davvero un talento poliedrico. Un altro artista che mi piacerebbe vedere sul palco è Rihanna. La sua personalità unica e le sue fit internazionali creerebbero un'atmosfera incredibile. Sì. Rihanna è un'icona della musica. Un altro artista che aggiungerei al line-up è Taylor Swift. Le sue canzoni orecchiabili e il suo stile unico mi conquistano sempre. Taylor Swift è davvero una cantautrice eccezionale. Per completare il line-up, aggiungerei anche Maroon 5. Le loro canzoni contagiose e le performance energiche renderebbero il concerto davvero memorabile. Maroon 5 è una scelta perfetta. Immagino una serata piena di musica, energia e emozioni forti con questo line-up da sogno. Sì. Sarebbe un concerto indimenticabile. Grazie per questa conversazione, Laura. Mi hai fatto sognare e desiderare di vivere un'esperienza così straordinaria. Grazie a te. Marco. È stato divertente immaginare il concerto perfetto insieme. Continuiamo a sognare e ad apprezzare la magia della musica. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 8. Colonne sonore da sogno. In questa conversazione, due amici di sesso maschile, Marco e Luca, parlano delle colonne sonore da sogno dei loro film preferiti. Condividono le emozioni e i ricordi legati alla musica dei film che amano. Ciao Luca. Come stai? Sai? Sono un appassionato di cinema e mi piace molto la musica dei film. Hai qualche colonna sonora preferita che ti fa sognare? Ciao Marco. Sto bene. Sì, ho alcune colonne sonore che adoro. Una delle mie preferite è quella del film, La vita è bella. La musica di quel film è così toccante e emotiva. Mi fa sognare e mi ricorda l'importanza dell'amore e della speranza. Sono d'accordo, Luca. La colonna sonora di, La vita è bella, è davvero commovente. Una delle mie colonne sonore da sogno, è quella del film, Interstellar. La musica di Hans Zimmer crea un'atmosfera epica e mi trasporta in un viaggio spaziale emozionante. Interstellar, è un film fantastico, Marco. Un'altra colonna sonora da sogno per me è quella del film, Il Signore degli Anelli. La musica di Howard Shore è così avvincente e mi fa immergere completamente nel mondo fantastico della Terra di Mezzo. Il Signore degli Anelli, ha davvero una colonna sonora straordinaria, Luca. Un'altra colonna sonora che adoro, è quella del film, La La Land. La musica di Justin Urwitz è così vivace, e mi fa sentire come se stessi ballando sulle strade di Los Angeles. La La Land, è un film meraviglioso, Marco. Un'altra colonna sonora che mi fa sognare è quella del film, C'era una volta in America. La musica di Ennio Morricone è così intensa e mi trasporta nella New York del passato, tra gangster e storie di amicizia. C'era una volta in America, è un classico, Luca. Un'altra colonna sonora che mi emoziona, è quella del film, Il Padrino. La musica di Nino Rota crea un'atmosfera misteriosa, e mi fa immergere nel mondo del crimine, e della famiglia Corleone. Il Padrino, ha davvero una colonna sonora iconica, Marco. Un'altra colonna sonora da sogno per me è quella del film, Lezioni di Piano. La musica di Michael Naiman è così delicata e mi fa sentire le emozioni dei protagonisti nel loro viaggio musicale. Lezioni di Piano, è un film toccante, Luca. Abbiamo condiviso alcune colonne sonore da sogno, che ci fanno sognare e emozionare. Spero che un giorno possiamo vivere le nostre passioni musicali, e creare qualcosa di bello come queste colonne sonore. Dialogo 9 Sognando sul palcoscenico. In questa conversazione, Sara e Luca discutono dei loro ruoli da attore, attrice preferiti. Immaginano di interpretare personaggi e condividono le loro aspirazioni senza menzionare che stanno imparando l'italiano. Ciao Luca. Hai mai sognato di interpretare un ruolo da attore? Ciao Sara. Assolutamente. Uno dei miei ruoli da attore preferiti, sarebbe quello di un detective intelligente e affascinante in un film poliziesco. Mi piacerebbe interpretare un personaggio che risolve enigmi complicati, e tiene il pubblico col fiato sospeso. Che interessante. Luca. Per me. Uno dei ruoli da attrice che ho sempre sognato di interpretare è quello di una principessa ribelle in un film d'avventura. Vorrei indossare abiti meravigliosi e dimostrare che le donne possono essere forti e coraggiose. Capisco cosa intendi, Sara. Un altro ruolo che mi affascina, è quello di un musicista talentuoso e tormentato in un film drammatico. Vorrei esplorare le emozioni profonde di un personaggio che si esprime attraverso la musica. Mi piace l'idea. Luca. Un altro ruolo che mi affascina è quello di una scienziata brillante in un film di fantascienza. Vorrei interpretare un personaggio che scopre nuovi mondi e fa importanti scoperte scientifiche. Wow. Sarebbe davvero entusiasmante. Un altro ruolo che mi attrae, è quello di un avventuriero intraprendente in un film di esplorazione. Mi piacerebbe interpretare un personaggio che si avventura in luoghi sconosciuti. e scopre tesori antichi. Quante opportunità interessanti, Luca. Un altro ruolo che mi affascina è quello di una ballerina talentuosa in un film romantico. Vorrei esprimere emozioni attraverso la danza e trasmettere un messaggio di passione e determinazione. La danza è un'arte meravigliosa. Sarah. Un altro ruolo che mi piacerebbe interpretare è quello di un supereroe con poteri straordinari in un film d'azione. Vorrei mostrare il coraggio e la forza di un personaggio che lotta per il bene comune. Sì. I supereroi sono sempre affascinanti. Un altro ruolo che mi piacerebbe interpretare è quello di una giornalista investigativa in un film di suspense. Vorrei svelare verità nascoste e portare alla luce storie importanti. Mi piace l'idea di interpretare un ruolo che ha un impatto sociale, Sarah. Continuare a immaginare questi personaggi ci aiuta a crescere come attori, e ci ispira a migliorare le nostre abilità. Esatto. Luca. Sognare di interpretare ruoli diversi ci permette di esplorare il nostro potenziale artistico e affrontare nuove sfide. Continuiamo a lavorare sodo per realizzare i nostri sogni da attori e regalare emozioni al pubblico attraverso le nostre performance. Hai tutta la mia ammirazione, Sarah. Spero che entrambi possiamo realizzare i nostri sogni da attori, e regalare emozioni al pubblico, attraverso le nostre performance. Grazie. Luca. Sono sicura che ci aspettano grandi avventure sul palcoscenico. Continuiamo a seguire la nostra passione e a inseguire i nostri sogni da attori. Dialogo 10 La mia casa accogliente. In questa conversazione, Giulia e Marco parlano delle loro case o appartamenti. Condividono le caratteristiche, le stanze e le cose che amano del loro spazio abitativo. Scopri insieme a loro come descrivono i loro luoghi di casa. Ciao Marco. Come stai? Hai mai parlato della tua casa? Mi piacerebbe sapere come la descriveresti. Ciao Giulia. Sto bene, grazie. Sì, posso descriverti la mia casa. È un appartamento accogliente con due camere da letto, un soggiorno spazioso e una cucina funzionale. Sembrerebbe un bel posto. Come hai arredato il tuo soggiorno? Nel soggiorno, ho un comodo divano, un tavolino da caffè e una grande libreria piena di libri. È il mio angolo preferito per rilassarmi e leggere. Mi piace l'idea di una libreria piena di libri. Come hai decorato le camere da letto? Nella mia camera da letto, ho un letto matrimoniale, un armadio e una scrivania. Ho scelto colori rilassanti per creare un'atmosfera tranquilla. Nella seconda camera da letto, ho una scrivania che uso come ufficio. Sembra che tu abbia creato uno spazio confortevole. E la cucina? Come è organizzata? La mia cucina è piccola ma funzionale. Ho tutti gli elettrodomestici essenziali e spazio sufficiente per preparare i pasti. Mi piace cucinare e sperimentare nuove ricette. Anch'io adoro cucinare. Ho una casa con un giardino. Mi piace trascorrere del tempo all'aperto e coltivare piante e fiori. Un giardino suona davvero bello. Hai uno spazio per rilassarti all'aperto? Sì. Ho una piccola terrazza con un tavolo e delle sedie. È un luogo perfetto per godersi il sole e bere un caffè al mattino. Mi piace l'idea di avere uno spazio all'aperto. La mia casa non ha un giardino o una terrazza, ma mi piace andare al parco nelle vicinanze per rilassarmi immerso nella natura. Il parco è un ottimo posto per rilassarsi. Hai qualche oggetto speciale nella tua casa che ti piace particolarmente? Sì. Ho un dipinto che mi ha regalato un amico. È appeso al muro del soggiorno e mi fa ricordare momenti felici ogni volta che lo guardo. È bello avere oggetti che ci ricordano momenti speciali. Nella mia casa, ho una collezione di conchiglie che ho raccolto durante le mie vacanze al mare. Mi portano tanti bei ricordi. Le conchiglie sono dei ricordi unici. Mi piace come i nostri oggetti speciali ci fanno sentire a casa. Sì. Sono i dettagli che rendono il nostro spazio unico e accogliente. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 11 I gustosi gelati preferiti. In questa conversazione, Giulia e Marco discutono dei loro gusti preferiti di gelato. Entrambi sono appassionati di dessert e si scambiano le loro opinioni sulle diverse varianti. Scopri quali sono i loro gusti preferiti. Ciao Marco. Come stai? Sai, ho una voglia pazzesca di gelato oggi. Qual è il tuo gusto preferito? Ciao Giulia. Anch'io adoro il gelato. È difficile scegliere un solo gusto preferito. Ma se dovessi dirne uno, direi pistacchio. È davvero delizioso. Oh, mi piace molto anche il pistacchio. È cremoso e ha un sapore unico. Ma sai, il mio gusto preferito è il cioccolato fondente. Adoro la sua intensità e la consistenza vellutata. Capisco perfettamente. Il cioccolato fondente è una scelta classica. A proposito, hai mai provato il gelato alla fragola? È un gusto molto popolare anche tra i bambini. Sì. Ho provato quello alla fragola e devo dire che è davvero delizioso. Mi piace l'aroma dolce e la freschezza della fragola. È un'ottima scelta per l'estate. Concordo pienamente. Alcune persone preferiscono gusti più fruttati come il limone o l'arancia. Li trovo molto rinfrescanti e perfetti per le giornate calde. Hai ragione. Soprattutto quando fa caldo fuori. Tuttavia, a volte mi piace sperimentare gusti più insoliti. Ho assaggiato il gelato al bacio, con la combinazione di nocciole e cioccolato. Ah, sì. Il gelato al bacio è fantastico. Le nocciole tostate donano quel tocco croccante e il cioccolato rende tutto ancora più goloso. È una scelta davvero eccezionale. Assolutamente d'accordo. Sai, ho anche sentito parlare di un gusto al cocco esotico. Sono curiosa di provarlo. Sembra così invitante. Sì. Il gelato al cocco è una vera delizia. Ha un sapore tropicale che ti fa sentire come se fossi in vacanza. Ti consiglio di provarlo al più presto. Grazie per il consiglio, Marco. Penso che proverò il gusto al cocco la prossima volta. È sempre bello scoprire nuovi gusti e sperimentare con i sapori. Di niente, Giulia. Sono sicuro che ti piacerà. Il gelato è una passione condivisa da molte persone. Ed è fantastico condividere le nostre preferenze e scoprire nuovi gusti insieme. Assolutamente. Marco. È stato divertente parlare di gelato con te. Grazie per la tua compagnia e le tue fantastiche idee di gusti. Ci sentiamo presto. Altrettanto, Giulia. È sempre un piacere condividere le mie passioni con te. Buon appetito e ci vediamo presto. Divertiti con il gelato. Dialogo 12 Esplorando la consapevolezza. In questa conversazione, Laura e Marco discutono delle pratiche di consapevolezza che utilizzano per migliorare il loro benessere. Condividono esperienze personali e suggerimenti su come integrare la consapevolezza nella vita quotidiana. Ciao Marco. Hai mai provato a praticare la consapevolezza? Ciao Laura. Sì, ho iniziato a praticare la consapevolezza di recente. Mi ha aiutato a ridurre lo stress e ad essere più presente nel momento presente. Sono felice di sentire che hai avuto un'esperienza positiva. Quali pratiche di consapevolezza ti piace fare? Una delle mie pratiche preferite è la meditazione. Dedico alcuni minuti al giorno per sedermi in silenzio, concentrarmi sulla respirazione e osservare i pensieri che passano nella mia mente. Anch'io medito. È un modo meraviglioso per calmare la mente. Oltre alla meditazione, mi piace anche praticare il camminare consapevole. Mi concentro sui passi che faccio, sull'ambiente intorno a me e sulle sensazioni fisiche. Sembra un'ottima pratica. Mi piace l'idea di essere più consapevole durante le attività quotidiane. Hai altre pratiche di consapevolezza che potresti consigliarmi? Sicuramente. Una pratica che trovo utile è il tenere un diario di gratitudine. Ogni giorno scrivo almeno tre cose per cui sono grata. Mi aiuta a focalizzarmi sulle cose positive della mia vita. Mi piace l'idea del diario di gratitudine. Mi sembra un modo efficace per coltivare una prospettiva positiva. Ci sono altre attività quotidiane che possono essere integrate nella pratica della consapevolezza? Assolutamente. Una pratica semplice è dedicare del tempo alla consapevolezza durante i pasti. Mangiare lentamente, gustando ogni boccone e prendendosi il tempo per apprezzare i sapori e le texture dei cibi. Mi piace l'idea di mangiare con consapevolezza. Spesso mangio in fretta senza nemmeno assaporare il cibo. Farò del mio meglio per rallentare e apprezzare di più i pasti. È un ottimo inizio. Marco. La consapevolezza può essere integrata in molti aspetti della nostra vita quotidiana. Spero che queste pratiche ti aiutino a trovare equilibrio e serenità. Grazie, Laura. Sono entusiasta di sperimentare queste pratiche e vedere i benefici che possono portare. Continueremo a condividere le nostre esperienze. Assolutamente. Sarà interessante scoprire come la consapevolezza influisce sulla nostra vita. Buona pratica. Marco. Grazie, Laura. Buona pratica anche a te. Dialogo 13 Stili di danza preferiti. In questa conversazione, Giulia e Marco parlano dei loro stili di danza preferiti. Senza menzionare esplicitamente l'apprendimento dell'italiano, i due amici condividono le loro passioni per la danza e si scambiano informazioni sugli stili che amano praticare. Ciao Marco. Ti piace ballare? Ciao Giulia. Sì, adoro ballare. Quali sono i tuoi stili di danza preferiti? Mi piace molto la danza contemporanea. Mi permette di esprimere liberamente le mie emozioni attraverso il movimento. Sembra affascinante. Io invece preferisco il ballo latino, come la salsa e la baciata. Mi piace il ritmo coinvolgente e l'energia che si sprigiona durante queste danze. Anche io trovo affascinante il ballo latino. È così coinvolgente e divertente da praticare. Hai mai provato la danza classica? Sì. Ho avuto qualche esperienza di danza classica in passato. Mi piace l'eleganza e la precisione dei movimenti. È meraviglioso. La danza classica richiede molta disciplina e tecnica. Ma è gratificante quando riesci a padroneggiarla. Hai qualche altro stile di danza che ti piace particolarmente? Sì. Adoro l'hip hop. È un mix di movimenti energetici e ritmo. E mi dà la possibilità di sperimentare con la creatività. Wow! L'hip hop è molto popolare e coinvolgente. Mi piace la sua energia e la sua capacità di esprimere messaggi attraverso il movimento. Assolutamente. Marco. È incredibile come ogni stile di danza abbia la sua unicità e offra un modo diverso di esprimersi. Hai ragione. Giulia. La danza è un linguaggio universale che può unire le persone e comunicare senza bisogno di parole. Esattamente. Ogni volta che danzo, mi sento libera e felice. È una forma d'arte meravigliosa. Sono completamente d'accordo. La danza ci permette di esprimere noi stessi in modi unici e ci dona gioia e gratificazione. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 14 Installazioni artistiche dei sogni In questa conversazione, Luca e Giulia parlano delle loro installazioni artistiche dei sogni. Condividono le loro idee e fantasie su progetti artistici che vorrebbero realizzare. Ciao Giulia. Hai mai pensato a quale tipo di installazione artistica ti piacerebbe creare? Ciao Luca. Sì. Ho sempre avuto un'idea in mente. Vorrei realizzare un'enorme installazione di sculture luminose che rappresenti la bellezza della natura. Wow. Suona davvero affascinante. Io, invece, vorrei creare un'installazione interattiva che coinvolga il pubblico, attraverso suoni e movimenti. Mi piace l'idea di coinvolgere il pubblico. Potremmo unire le nostre idee e creare un'installazione che combini elementi naturali, suoni e interazione. Esatto. Potremmo usare materiali come legno, pietra e tessuti per creare forme organiche e poi incorporare sensori che reagiscono ai movimenti delle persone. Sì. Sarebbe fantastico. Possiamo aggiungere anche luci colorate per creare un'atmosfera magica. Immagina la gente che esplora l'installazione e interagisce con i suoni e le luci. Penso che sarebbe un'esperienza unica. Potremmo trovare una location suggestiva, come un parco o un giardino, per rendere l'installazione ancora più speciale. Hai ragione. Il contesto è molto importante. Potremmo anche coinvolgere artisti locali per creare opere d'arte complementari all'installazione principale. Ottima idea. In questo modo, avremmo una varietà di espressioni artistiche che si fondono insieme. Sarà un'esperienza coinvolgente per il pubblico. Sì. Proprio così. Sognare queste installazioni ci aiuta a stimolare la nostra creatività e a immaginare le possibilità artistiche. Assolutamente. Penso che l'arte abbia il potere di emozionare e ispirare le persone. E attraverso le nostre installazioni, potremmo creare un'esperienza memorabile per tutti. Sono davvero felice di condividere queste idee con te, Luca. Spero che un giorno possiamo realizzare i nostri progetti artistici dei sogni. Dialogo 15 Energia in movimento. In questa conversazione, Martina e Luca parlano degli sport e delle attività fisiche che praticano. Condividono le loro esperienze, i benefici che ne traggono e i loro obiettivi. Scopri insieme a loro quanto sia importante muoversi e divertirsi facendo sport. Ciao Luca. Mi piace fare attività fisica. Tu pratichi qualche sport? Ciao Martina. Sì, mi piace molto giocare a calcio. È uno sport divertente e mi permette di stare in forma. Gioco con una squadra di amici ogni settimana. Che bello. Il calcio è un ottimo modo per divertirsi e tenersi attivi. Io, invece, preferisco la danza. Faccio lezioni di danza moderna due volte alla settimana. La danza è fantastica. Richiede flessibilità e grazia. Deve essere bellissimo vederla eseguita. Quali sono gli altri sport che ti piacciono? Mi piace anche fare jogging al parco. È un modo per rilassarmi e mantenere il mio corpo in movimento. Mi aiuta a sentirmi energica durante la giornata. Mi piace correre anche io. È un'attività che posso fare ovunque. Mi dà una sensazione di libertà. Sai, mi piace anche andare in bicicletta. È un modo divertente per esplorare nuovi posti. Sì. La bicicletta è un'ottima scelta. Mi piace pedalare all'aria aperta e godermi il paesaggio. È anche un ottimo modo per fare attività fisica senza sforzare troppo le articolazioni. Hai ragione. La bicicletta è un'attività a basso impatto ma molto gratificante. C'è qualche sport che vorresti provare ma non hai ancora avuto l'opportunità di praticare? Mi piacerebbe provare lo yoga. Ho sentito che aiuta a migliorare la flessibilità e a trovare la calma interiore. Sembra un'attività molto benefica per mente e corpo. Lo yoga è fantastico. Ho provato alcune lezioni e mi ha aiutato a migliorare la postura e la concentrazione. Ti consiglio di provarlo. Sono sicuro che ti piacerà. Grazie per il consiglio. Luca. Mi ispira molto. Sai. Una delle cose che mi piace degli sport è la possibilità di socializzare. Conosci nuove persone e ti diverti insieme a loro. Assolutamente. Lo sport è un'ottima occasione per fare nuove amicizie e condividere momenti di divertimento. Hai partecipato a qualche evento sportivo o gara di recente? Sì. Ho partecipato a una maratona benefica lo scorso mese. È stata un'esperienza incredibile. Non solo ho dato il mio contributo per una buona causa. Ma ho anche superato i miei limiti personali. Wow. Complimenti. Partecipare a una maratona è un grande traguardo. Mi piacerebbe anche io sfidarmi in una gara di corsa un giorno. Ti incoraggio a farlo. Luca. È un'esperienza che ti permette di testare la tua resistenza e di superare le sfide. Non vedo l'ora di sentire le tue avventure sportive. Grazie per l'incoraggiamento, Martina. Sono sicuro che ci saranno grandi sfide e grandi soddisfazioni. Lo sport ci insegna tanto e ci rende più forti, sia fisicamente che mentalmente. Hai ragione. Luca. Lo sport è un'ottima fonte di benessere. Ci aiuta a mantenere un corpo sano e una mente lucida. Dialogo 16 Citazioni cinematografiche. In questa conversazione, Laura e Marco parlano delle loro citazioni preferite tratte dai film. Condividono le frasi che li hanno ispirati, fatto ridere o che ricordano particolari momenti della loro vita. Discutono anche dei film da cui provengono queste citazioni e del loro significato. Ciao Marco. Hai mai sentito una citazione in un film che ti è rimasta impressa? Ciao Laura. Assolutamente, ci sono molte citazioni cinematografiche che mi sono rimaste nel cuore. Una delle mie preferite è La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, del film Forrest Gump. Mi piace perché ci ricorda che la vita è piena di sorprese. Quella è davvero una bella citazione. Mi fa riflettere sul fatto che dobbiamo affrontare la vita con curiosità e accettare le sfide che ci si presentano. Ho una citazione preferita anch'io. È Che la forza sia con te. Da Star Wars. Mi fa sentire coraggiosa e pronta ad affrontare qualsiasi avventura. Star Wars è un classico. Che la forza sia con te, è diventata un'iconica frase di incoraggiamento. Mi piace come trasmette l'idea di trovare la forza interiore per superare gli ostacoli. Hai qualche altra citazione preferita? Sì. Un'altra citazione che amo è Carpe Diem. Vivi il giorno. Dal film L'attimo fuggente. Mi ricorda di cogliere ogni istante e vivere la vita a pieno. È un promemoria importante per apprezzare il presente. L'attimo fuggente è un film molto toccante. La citazione, Carpe Diem, ha un significato potente e ci incoraggia a sfruttare al massimo ogni momento. Mi piace molto anche la frase, mi hai fatto innamorare di te, proprio come i barboncini francesi si innamorano dei cani di plastica, da La La Land. È una citazione divertente e romantica allo stesso tempo. Ah! La La Land è un film meraviglioso. Quella citazione mi fa sorridere. È un modo dolce per esprimere l'amore e la connessione tra due persone. Mi viene in mente un'altra citazione. Amo l'odore del napalm al mattino. Da Apocalypse Now. È una frase potente che rappresenta l'oscurità della guerra. Sì, quella citazione è davvero intensa. Apocalypse Now è un film che affronta tematiche profonde e la frase, Amo l'odore del napalm al mattino, ha un impatto significativo. È interessante come le citazioni cinematografiche possono suscitare emozioni diverse. Esattamente. Le citazioni possono racchiudere emozioni complesse in poche parole. È incredibile come una singola frase possa evocare ricordi, ispirare o farci riflettere. È uno dei motivi per cui amo il cinema. Concordo. Il cinema ha il potere di toccare le nostre anime e le citazioni memorabili fanno parte di quel magico fascino. Mi piace come possiamo condividere queste citazioni e trovare un senso di connessione attraverso i film. Assolutamente. Le citazioni ci uniscono attraverso l'amore per il cinema. È bello poter condividere queste frasi significative e discuterne insieme. Hai ragione, Laura. Grazie per aver condiviso le tue citazioni preferite. Mi hai ispirato a rivedere alcuni film e riflettere sul loro significato. È stato un piacere. Marco. È bello scoprire le citazioni che hanno un significato speciale per ognuno di noi. Mi hai fatto venire voglia di guardare anche io alcuni film e trovare nuove citazioni da amare. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 17 Luci sulla scena. Una conversazione tra Luca e Giulia riguardo alle loro performance teatrali da sogno. Discutono dei ruoli, delle emozioni e delle sfide affrontate sul palco, sognando di un giorno realizzare i loro desideri. Ciao Giulia. Hai mai sognato di fare una performance teatrale che ti rimarrà nel cuore? Ciao Luca. Assolutamente. Sogno di interpretare il ruolo di una ballerina principale in un balletto classico. E tu? Wow. Che bel sogno. Io vorrei interpretare un protagonista in un dramma intenso. Sì. Sarebbe un'esperienza incredibile. Che emozioni pensi di poter provare sul palco? Penso che provare la tensione del personaggio e il coinvolgimento emotivo con il pubblico sarebbero esperienze indimenticabili. Sono d'accordo. Sentire l'energia del pubblico e trasmettere emozioni attraverso il movimento sarebbe magico. Hai ragione, Giulia. Ma sappiamo anche che sul palco ci sono sfide da affrontare. Quali pensi che potrebbero essere? Certo. Ci potrebbero essere sfide tecniche da superare. Come la precisione dei movimenti e la resistenza fisica. Inoltre, dobbiamo essere pronti a gestire la pressione delle esibizioni dal vivo. Esatto. Giulia. Ma sono convinto che la passione per l'arte e la determinazione ci aiuteranno a superarle. Assolutamente. Penso che l'allenamento costante e la volontà di migliorarsi siano fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo. Hai ragione. Giulia. Qual è il tuo balletto classico preferito in cui vorresti esibirti? Mi piacerebbe tanto ballare. Il Lago dei Cigni. È un capolavoro della danza classica e la storia è così affascinante. È un'ottima scelta. È un balletto molto romantico e pieno di grazia. E quale dramma vorresti interpretare tu? Vorrei interpretare il protagonista in Romeo e Giulietta. È una storia d'amore intensa e tragica. E mi piacerebbe esplorare le profonde emozioni dei personaggi. Mi sembra una scelta perfetta per te, Giulia. Sono sicuro che riusciresti a trasmettere tutta la passione di Giulietta. Grazie. Luca. Spero che un giorno entrambi possiamo realizzare i nostri sogni sul palco. Sono sicuro che accadrà, Giulia. Con impegno e dedizione, possiamo raggiungere grandi traguardi. Hai ragione. Luca. Continuiamo a lavorare duramente per migliorarci e un giorno brilleremo sul palco insieme. Assolutamente. Giulia. Non vedo l'ora di condividere questo momento con te. In bocca al lupo per i nostri sogni teatrali. Grazie. Luca. In bocca al lupo anche a te. Siamo sulla buona strada per realizzare i nostri sogni. Ci vediamo sul palco. Ci vediamo sul palco, Giulia. Iniziamo a rendere i nostri sogni realtà. Dialogo 18 L'esperienza della crescita personale. In questa conversazione, Laura e Matteo parlano delle loro esperienze di crescita personale. Condividono le sfide che hanno affrontato e come hanno imparato a superarle. Scopri come hanno tratto insegnamenti preziosi da queste esperienze. Ciao Matteo. Come stai? Sono in un momento della mia vita in cui sto cercando di crescere e migliorarmi. Hai mai affrontato esperienze di crescita personale? Ciao Laura. Anch'io ho attraversato momenti di crescita personale. È un percorso impegnativo ma molto gratificante. Certo, ho avuto alcune esperienze che mi hanno aiutato a crescere. Ad esempio, ho partecipato a un corso di public speaking per superare la mia paura di parlare in pubblico. Wow! È davvero coraggioso da parte tua affrontare quella paura? Come hai fatto a superarla? Ho imparato tecniche di respirazione e ho esercitato la comunicazione di fronte a un piccolo gruppo di amici fidati. Alla fine, ho acquisito fiducia in me stesso e ho superato la paura. È davvero ispirante sentire la tua esperienza. Io, invece, ho dovuto affrontare la mia insicurezza nel prendere decisioni importanti. Ho iniziato a meditare per trovare calma interiore e fiducia nelle mie scelte. La meditazione è un'ottima pratica per sviluppare la consapevolezza di sé e trovare equilibrio interiore. Complimenti per aver intrapreso questo cammino. Grazie, Matteo. È stato un processo lento, ma mi ha insegnato molto su me stessa. Hai altre esperienze di crescita personale che vorresti condividere? Certamente. Ho deciso di dedicare del tempo ogni giorno alla lettura di libri di sviluppo personale. Mi hanno aiutato a migliorare la mia mentalità e a sviluppare abitudini positive. Sembra un'ottima abitudine. Potresti consigliarmi qualche libro in particolare? Certo. Il potere del pensiero positivo, di Norman Vincent Peale, è stato molto utile per me. Mi ha insegnato l'importanza di mantenere una prospettiva positiva nella vita. Grazie per la raccomandazione. Sarà la mia prossima lettura. Sai, un'altra sfida che ho affrontato è stata la gestione dello stress. Ho iniziato a praticare lo yoga e mi ha aiutato a trovare tranquillità mentale. Lo yoga è fantastico per il benessere fisico e mentale. È meraviglioso che tu abbia trovato uno strumento efficace per gestire lo stress. Sì, sono grata di aver scoperto questa pratica. Mi ha insegnato ad ascoltare il mio corpo e a essere più consapevole delle mie emozioni. È stata una vera esperienza di crescita. Sono felice che tu abbia trovato un modo per prenderti cura di te stessa. La crescita personale è un viaggio che ci accompagna per tutta la vita. È bello condividere queste esperienze e imparare gli uni dagli altri. Concordo pienamente, Matteo. Grazie per aver condiviso le tue esperienze con me. Sono sicura che continueremo a crescere e a imparare insieme lungo il nostro cammino. È stato un piacere, Laura. Sono sicuro che avremo molti altri momenti di crescita e ispirazione. In bocca al lupo per il tuo percorso di sviluppo personale. Grazie, Matteo. In bocca al lupo anche a te. Ci sentiamo presto. Dialogo 19 Conversazione sulle destinazioni preferite di street art. In questa conversazione, due amici di nome Luca e Sofia parlano delle loro destinazioni preferite per ammirare l'arte di strada. Condividono le proprie esperienze e raccomandano luoghi interessanti da visitare. Ciao Sofia. Come stai? Ciao Luca. Sto bene. Grazie. E tu? Anch'io sto bene. Sai? Stavo pensando alla street articolo. Hai dei luoghi preferiti dove ammirare quest'arte? Sì. Adoro la street art. Una delle mie destinazioni preferite è Berlino. La città è ricca di murales e graffiti meravigliosi. Ogni angolo nasconde una sorpresa artistica. Sono stato a Berlino anche io e concordo con te. È incredibile come le pareti e gli edifici diventino tele per artisti di strada. Un altro posto che mi ha colpito è Barcellona. La città catalana è famosa per la sua vivace scena di street articolo. Sì. Barcellona è una meta imperdibile per gli amanti della street articolo. Mi piace come l'arte urbana si mescola con l'architettura modernista della città. È un mix affascinante. Hai perfettamente ragione. Mi ricordo di essere rimasto incantato dai murales di artisti come Benxi e Invader. Ogni opera è unica e racconta una storia. Parlando di Benxi. Un'altra città che merita di essere menzionata è Bristol. È la città natale di Benxi e ci sono molti suoi lavori sparsi per le strade. È un vero paradiso per gli appassionati di street articolo. Bristol è sicuramente un luogo speciale per ammirare l'arte di Benxi. La sua ironia e il suo messaggio sociale sono davvero unici. Un'altra città che mi ha sorpreso è Buenos Aires. Buenos Aires. La street art fa parte dell'identità della città. Buenos Aires è un ottimo esempio di come l'arte di strada possa trasformare un'intera comunità. Mi piace come i murales raccontino storie di storia e cultura argentina. È come passeggiare in un museo a cielo aperto. Assolutamente d'accordo. La street art è un mezzo potente per esprimere identità e messaggi sociali. Mi viene in mente anche Londra. Una città con una vibrante scena di street art, specialmente nell'Isten. Sì. Londra è piena di sorprese artistiche. Shoreditch è una zona fantastica per scoprire murales colorati e innovativi. Ogni volta che vado a Londra, mi dedico a una lunga passeggiata alla scoperta di nuove opere. È davvero emozionante camminare per le strade alla ricerca di nuovi capolavori di street art. Ci sono così tante città da esplorare e ognuna ha il suo stile unico. Esatto. La street art ci porta in giro per il mondo. Offrendo una prospettiva diversa sulle città che visitiamo. È un modo affascinante di scoprire l'arte contemporanea. E non possiamo dimenticare l'arte di strada che abbiamo anche nelle nostre città. Dobbiamo apprezzare gli artisti locali e contribuire a creare un ambiente in cui la street art possa prosperare. Hai ragione. Luca, dobbiamo essere consapevoli del valore della street art e promuoverne la crescita e l'apprezzamento. Assolutamente. La street art aggiunge colore e vita alle nostre strade. È un patrimonio artistico da preservare e valorizzare. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Non dimenticarti di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Grazie e a presto. Grazie a tutti.